Mario Franco arriva con la auto e chiude in 4.23.74 Mario Franco arriva con la auto e chiude in 4.23. Mario Franco arriva con la auto e chiude in 4.23. Mario Franco arriva con la auto e chiude in 4.23. Mario Franco arriva con la auto e chiude in 4.23. Grazie a tutti.